Dal principio del risultato e della fiducia estendibile a tutta la pubblica amministrazione fino alla finanza di progetto passando per appalti e subappalti. Questa mattina all'Aurum un convegno sul nuovo codice degli appalti. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Pescara, Anciabruzzo e interdata Cuzzola SRL. L'obiettivo è quello di porre l'attenzione sulle principali opportunità offerte dalle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo numero 36 del 2023 che acquisteranno efficacia a partire dal prossimo 1 luglio. Qual è la posizione del lancio e il commento del lancio su questo nuovo codice degli appalti? Diciamo che noi da un primo impatto siamo molto positivi anche perché veniamo da un codice degli appalti che ha fatto fare pochi lavori e ha creato un sacco di problemi sia le imprese sia le amministrazioni pubbliche. Oggi noi riteniamo che questo nuovo codice possa avere i piedi per camminare però alla prova dei fatti lo vedremo nei prossimi 3-4 mesi. Poi vedremo se sarà sempre meglio di quella giungla di nozioni, di leggi che era il vecchio codice oppure no. Cosa spaventa? Beh, che cosa spaventa? Spaventa che oggi per fare un lavoro pubblico le statistiche dicono che ci vogliono 8 anni mentre lo stesso lavoro privato dura 18 mesi. Noi speriamo che quegli 8 anni diventano almeno 4. E' un po' un adeguarsi alle regole del nuovo mercato che richiede sempre di più la sinergia di pubblico e privato e quindi tempi e metodi del mercato privato? Certo, le imprese ci sono, le imprese del lancio hanno un codice etico e rispettano tutte le leggi e vogliono rispettare anche questa legge. Speriamo che la legge li faccia lavorare. Le esigenze di progettualità ambiziose chiamano in causa sinergie tra i diversi settori. Il codice degli appalti prevede, tra gli strumenti, la finanza di progetto, una modalità di finanziamento che si utilizza quando si realizzano opere pubbliche con interventi di capitali privati.